Il protagonista di questo video è l'articolo Nero Giardini P30 8452D nella variante colore 707 che corrisponde al materiale Paradise nella tonalità perlata bianca e abbinato del camoscio in tinta, quindi sempre bianco, proposto a un prezzo di vendita di Euro 125. Si tratta di una sneakers piuttosto raffinata come gusto, dove come abbiamo già detto viene abbinato la pelle nella tonalità perlata bianca, che sarebbe questa, nel puntale quindi e nella parte posteriore del tallone, con questo inserto in camoscio in tonalità, sia nel lato esterno che nel lato interno, impreziosita da questo inserto di borchie, applicazioni micro borchie, che compongono in questa posizione il logo NG. La suola è in gomma, antiscivolo, personalizzata, infatti viene riportato sia il logo NG che il logo Nero Giardini e anche essa ha questo inserto in metallo, metallico, colore silver, che riprende il colore degli occhielli e la stessa tonalità del colore delle micro borchie. Grazie per la visione! Grazie a tutti